E arriva da Venezia e esce in Italia finalmente l'alba l'ultimo film di Saverio Costanzo che è un cineasta che io devo dire seguo, uno dei pochi cineasti italiani che ci tengo a seguire, un po' per l'ambizione che ha finora dimostrato nel suo cinema e anche per l'originalità. Perché comunque finora, io premetto che non conosco la sua produzione televisiva, cioè l'amica geniale è in treatment, però i suoi film che finora si sono ispirati a libri più o meno importanti, dal bestseller La solitudine dei numeri primi al Bambino Indaco di Paolo Giordano naturalmente e Il bambino Indaco di Marco Franzoso, insomma ecco il suo modo di rapportarsi a opere altrui e poi riprodurle, secondo me, non riprodurle, adattarle scusate, secondo me è molto interessante perché per esempio alludeva al giallo argentiano con La solitudine dei numeri primi, mentre con Angry Heart che era la sua traduzione in immagini del Bambino Indaco, ecco che sembrava rifarsi al cinema di Roman Polanski e in particolare alle sue divagazioni paranoidi di Rosemary Baby e l'inquilino del terzo piano. Finalmente l'Alba è un film molto ambizioso perché racconta una storia filtrata attraverso lo specchio della memoria della Hollywood sul Tevere, siamo nel 1953, quindi immediatamente dopo gli splendori del neorealismo e quando Hollywood cominciava a essere colorizzata dalle truppe hollywoodiane per girare film in costume, ma siamo anche a ridosso della tragedia di Vilma Montesi. La protagonista di questo film, interpretata da Rebecca Antonacci, poco più che un esordiente, è di fatto una sorta di controfigura di doppelganger della Montesi, dopo essere inciampata fisicamente quasi nel fatto di cronaca, la vediamo in una sequenza molto bella vicina a uno schermo su cui viene proiettato il cinegiornale che racconta di Vilma Montesi. Ecco che questa ragazza, questa mimosa, apprediamo che ha molto in comune con la Montesi. Per esempio anche lei ha un fidanzato poliziotto, ha fascinazione verso il mondo del cinema, forse è più ingenua rispetto a Vilma Montesi, non si sa, ma di fatto, e questo è il cuore del film, capiterà in una festa, durante una sorta di notte brava, nella villa che ha visto consumarsi più che presumibilmente la tragedia della Montesi, quella del nobile decaduto Ugo Montagna, che così, come dire, è l'ospite di tutta una alta borghesia, quando anche nobiltà così romana ma internazionale, che si segnala per sordidezza e così scarsa sensibilità, diciamo. Quindi la storia è sostanzialmente questa, per eventi fortuiti del caso, che adesso non sto qui a elencare, chi vorrà vedere il film, Mimosa, questa popolana, questa giovane ragazza romana, figlia del proletariato cittadino, finisce in questa festa megagalattica assieme a una diva di Hollywood interpretata da Lily James, a un divo di Hollywood che è Joe Keery, entrambi attori della scena televisiva attuale, perché Lily James viene da Downtown Abbey, Joe Keery da Stranger Things e dalla quinta stagione di Fargo, e poi c'è anche Willem Dafoe, il prezzemolino del cinema d'autore, che in Italia è di casa, che interpreta poi una sorta di amico italiano, tra virgolette, della nostra diva Lily James. Lily James è una diva old style, diciamo, che in qualche modo sente il crepuscolo della sua carriera e a farglielo sentire, come spesso succede nel cinema, come spesso succede nel Melo, è un'altra donna, un'attrice più giovane, che qui interpretata dalla bravissima Rachel Sennot, la protagonista dei film di Emma Seligman, Shiva Baby, e dell'esilarante Bottoms, del quale è anche sceneggiatrice. Bottoms è uno, secondo me, delle commedie più belle che mi è capitato di vedere negli ultimi anni, ma c'è anche da dire che io sono uno spettatore non proprio, come dire, non proprio assiduo di commedie. Però quella mi è piaciuta molto. E la Sennot, tra l'altro, ci sta anche come contraltare di Lily James, vuoi per una bellezza più irregolare, più moderna, che nel 1953 anticipava forse troppo i tratti irregolari di dive che sarebbero venute più tardi, sostanzialmente abbastanza più tardi, dive come Barbara Streisand, perché anche la Sennot ha un naso importante, diciamo, e contrasta un po' con i lineamenti così apollinei di Lily James. In una scena, tra l'altro, le due dive si punzecchiano e l'ha un po' vinta la Sennot, forte della sua giovinezza, diciamo così. Questo è un po' il sottofondo morale del film, ma a interessarmi, secondo me, è da un lato la scelta di Costanzo di accostare la storia di Mimosa a quella di Vilma Montesi, tanto che potrebbe quasi essere una sorta di... cioè la nostra Mimosa potrebbe essere quasi una sorta di metaforico fantasma di Vilma che un paio di giorni dopo si trova ad aggirarsi sullo stesso set che ne ha in qualche modo segnato il destino. E c'è anche una rappresentazione feroce del mondo del cinema, degna del Mankiewicz di Eva contro Eva, non degna nel senso che Costanzo è bravo come Mankiewicz, degna nel senso che Costanzo cerca, che pure è bravo però, non esageriamo, insomma, cerca di così ripeterne la ferocia. E nelle scene della festa, senza strafare, devo dire, questa ferocia si sente, cioè il pericolo che una ragazza giovane come Mimosa esposta alla tentazione di uomini così che di fatto vanno alla festa soltanto per scopare facile, ecco, e il pericolo quindi che così lei si trova a vivere, Costanzo ce lo fa sentire molto bene, in mezzo all'indifferenza di quello che è così, questo star system ormai al crepuscolo che si diverte anche alle spalle di Mimosa. Nel film compare, compaiono personaggi storici, Piero Piccioni e Alida Valli, che Piero Piccioni sappiamo pesantemente coinvolto nel caso Montesi, possiamo immaginarcelo in questo film, questo film lo vediamo anche un po', come dire, sembrerebbe ubriaco, sembrerebbe in preda alle droghe, no? Possiamo pensare ancora in qualche modo segnato da quello che è successo e del quale potrebbe addirittura esserne, insomma, coinvolto pesantemente, ecco, possiamo immaginarlo segnato quindi da questo fatto terribile, e la sua donna dell'epoca, Alida Valli, che è interpretata qui da Alba Rorvacher, molto brava tra l'altro. Ora, è Alba Rorvacher, è Alida Valli a dire alla giovane Mimosa che quella sera Lily James, nel film, nella finzione, si chiama Josephine Speranto, la scelta come suo giocattolo. E l'acme di questa volontà, di questo gioco perverso di Lily James, l'abbiamo proprio quando lei, che fa passare, presenta tutti Mimosa dicendo che è una poetessa svedese, a un certo punto le chiede di recitare una poesia di fronte a tutti. Tutta la sala, naturalmente, si ferma così desiderosa di ascoltarla. Teniamo presente che Mimosa è una ragazza del popolo, non parla una parola d'inglese. Il film, anzi, diciamo, coraggiosamente è stratificato anche dal punto di vista linguistico. Abbiamo i divi che naturalmente parlano inglese. Mimosa riesce a farsi tradurre gran parte delle parole, delle loro parole da Willem Dafoe, però, insomma, si trova spaesata, un vero e proprio alieno in questo mondo che non conosce. Ed ecco che la scena è bellissima, perché lei chiaramente non spiccica parola, ma le viene da piangere, e questo pianto viene interpretato quasi come una performance da tutti quanti che stravedono per lei, la applaudono, e lei riesce anche a scoparsi Joe Keery, cioè il grande divo Sean Lockwood, che la cui gelosia poi aveva fatto, in qualche modo, nascere alla crudeltà di Lily James. Naturalmente non stiamo parlando di un film che presenta chissà che colpi di scena, quindi io adesso, e chi ha visto film qua, se vuole può stoppare, insomma farò degli spoiler, ma vorrei anche dire che, secondo me, non sono spoiler che compromettono la visione del film, per come la vedo io, che però, anche questo va detto, sono uno che se ne frega degli spoiler, ma vabbè, voglio dire soltanto questo, La Notte Brava di Mimosa si conclude di fronte alla spiaggia dove la Montesi ha trovato la sua fine, e secondo me sarebbe stata una grande chiusura di film, se il film fosse finito qui, secondo me sarebbe stato un grande film, perché sarebbe stato un grande film? Perché è un film ambizioso, le ambizioni sono riposte, il modo di raccontare di Costanzo è attento ai valori formali, anche ai valori spettacolari, però Costanzo non è uno che, come dire, che strafà, anzi, è un cineasta, secondo me, rigoroso, le cui scelte di stile sono scelte di stile molto ponderate, e anche il parterre di attori di cui si circonda, la tappezzeria visiva di facce, è indovinatissima, ci sono delle facce bellissime in questo film, sono, penso soltanto al Lenone che rimorchia Mimosa nel cinema, per poi proporla come comparsa, Cioè, sono facce che funzionano, ci portano su un'idea di espressionismo molto esibito, però, diciamo, senza le sottolineature grottesche proprio dell'azione scenica. Per dirla in breve, siamo molto lontano dai barocchismi alla Sorrentino, e su Sorrentino poi torno alla fine. e poi c'è la volontà di andare anche oltre confine, perché come ha fatto con, appunto, con Angry Heart, dove avevamo una Dub Driver lì lì, che stava lì lì per diventare famoso, che stava lì per esplodere come divo, anche qui abbiamo, l'ho già detto, Volti della serialità, Giochiri, Lily James, poi vabbè, la Sennot, insomma, la voglia di scegliere anche non solamente attori italiani, la voglia è, diciamolo, il potere, comunque, non è, evidentemente non è per tutti, insomma, di scegliere anche attori che probabilmente in termini di costi impegnano un pochettino di più una produzione italiana, unita poi alla ricostruzione storica. Di lì in poi, però, secondo me, il film scende, il film comincia a calare, comincia a calare e diventa un po' di dascalico. La coda di questo film che ci mostra laddove i divi di Hollywood finora non sono stati magari personaggi simpatici, però hanno sempre sfavillato, ecco che una volta che la notte si allontana e arriviamo, come dice il titolo, finalmente all'alba, ecco che perdono fascino anche i divi di Hollywood. E questo, Costanza, ce lo mostra in una scena che è molto, molto, molto esplicita, didatticamente esplicita. Il finale ha un, io l'ho interpretato come un colpo di coda simbolico che però a me suona anche come una sorrentinata, ecco per quello che dicevo che tornavo a Sorrentito, che come avrete capito è un regista che non amo particolarmente, almeno da This Must, This Must, sì insomma quello con Sean Penn fino ad oggi, ecco i primi quattro film dovrei rivederli ma all'epoca che mi erano piaciuti poi Sorrentino ha smesso di abitare nel mio cuore cinefilo. E sì, ecco un finale che mi è parso un po' una sorrentinata. Se il film si fosse chiuso sulla spiaggia dove è stato ritrovato il corpo di Vilma Montesi secondo me sarebbe stato un film brutale, un film brutale che avrebbe avuto una sua macabra e terribile coerenza che è quello che io poi speravo da questo film. Detto questo però onore al merito insomma, onore al merito e diamo l'onore delle armi a Costanzo perché vabbè avere la possibilità di mettere in piedi un soggetto come questo e lui l'ha avuta beato lui e comunque anche secondo me il coraggio di portare avanti certe scelte stilistiche che lui ha fatto e che io trovo encomiabili che sono quelle poi di un di un rigore che non cede agli psicologismi e questo può voler dire che forse magari i personaggi sono un po' magari vivono nei loro stereotipi ma vivono anche nella crudeltà dei loro stereotipi e questo lo fa secondo me con grande spresso del pericolo e questa cosa mi piace e l'ho trovata anche nei suoi film migliori appunto Angry Heart e In Memoria di Me e poi il parterre tecnico di cui ha saputo circondarsi cioè veramente abbiamo a che fare con un film che vuole rompere ogni provincialismo non è l'unico Costanzo che fa questo perché lo fa Bellocchio lo fa Garrone lo fanno tanti altri però insomma Costanzo ha 50 anni uno che il cui approccio mi fa mi fa mi fa simpatia ecco e proprio per la sua età mi chiedo più che con altri registi quale sia quale sarà quale sarà l'evolversi del suo cinema che altri film farà che altre strade batterà che altri soggetti andrà a esplorare il montaggio è di Francesca Calvelli che è una è la montatrice ormai fissa del già citato Bellocchio la fotografia è del grande direttore della fotografia tailandese che ha accompagnato Guadagnino nel suo bellissimo remake di Suspiria e in altri film io adesso il nome di questo direttore della fotografia lo vado a leggere perché non riesco a mandarlo a memoria così come non riesco a mandare a memoria il nome del regista tailandese cui è legatissimo questo direttore della fotografia allora Soy Sayonbu Mukdi Prom Sayonbu Mukdi Prom voi so che cazzo dirvi io devo leggere ogni volta perché Sayonbu Mukdi Prom che ha lavorato con Apichatpong Wira Setakul grande maestro del cinema tailandese del quale io ho visto solo Tropical Maladie e mi sono fatto due coglioni così ecco lo ammetto serenamente Tropical Maladie mi ha fatto due coglioni così e quindi credo che di poter dire che il cinema di Apichatpong Wira Setakul non è la mia tazza di tè tanto vi dovevo vi auguro una buona serata o giornata o quel che volete voi o 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 Grazie.